Non presentano sintomi, sono tranquilli i sette studenti del Boccardi-Tiberio di Termoli e i tre dell'Agrario di Larino impegnati nel progetto Erasmus. Come è accaduto per i sei ragazzi del Pila di Campobasso, sono risultati positivi al Covid e sono rimasti bloccati a Malta. Nei prossimi giorni saranno sottoposti a nuovi tamponi, seguiranno le lezioni in DAD, così come gli studenti risultati invece negativi e rientrati in Italia dalla scuola. Il supporto ai ragazzi e alle famiglie. Ci sono sette studenti e studentesse del Boccardi, ma la situazione è sotto controllo. Da ieri mattina presto, con i contatti con le agenzie, sia quella locale di Malta che quella nostra locale di Campobasso, abbiamo tenuto le fila della situazione. Personalmente ho contattato i due colleghi degli altri due istituti comprensivi, il Pila di Campobasso e l'OMRI comprensivo di Larino, per coordinare delle azioni comuni. I ragazzi stanno tutti bene. In ogni caso ho contattato personalmente l'agenzia maldese e ho avuto il contatto privato del referente a cui ho chiesto di presidiare anche normalmente la situazione. Continui contatti anche con videochiamate tra la scuola e i ragazzi. Non appena si negativizzeranno potranno fare il ritorno in Italia. Il volo di rientro e il pernottamento, come spiega la preside Cimmino, sono a carico del progetto. Allo stesso modo sarà fornita massima assistenza per la fornitura del vitto sempre a carico della scuola. Ho immediatamente inviato intanto una mail alle ragazze e ai ragazzi per esprimere la vicinanza e soprattutto per dare delle indicazioni. E ho inviato una mail a ciascuna famiglia e allo studente della famiglia dando le medesime indicazioni. Tra cui la garanzia e tutti i tamponi verranno pagati dalla scuola. Per il resto ci auguriamo che le vacanze natalizie possano trascorrere il più serenamente possibile.